Luigi Faccia, questo è un evento dedicato ai ciclisti ma non solo, insomma l'obiettivo è sempre quello di promuovere la montagna? Sì, sì, questa manifestazione ha vari aspetti molto contemporanei, attuali, a partire soprattutto dall'aspetto sociale, una prevenzione primaria sulla salute e soprattutto sulle malattie cronico del genere. E poi ha il grande aspetto della comunicazione e della visibilità delle nostre montagne, quindi è un mezzo, ormai lo sport è diventato soprattutto la bici, che è uno sport ecologico di montagna proprio, è diventato un veicolo di promozione imbattibile per far conoscere le bellezze della nostra montagna.